grande manconi buon pomeriggio gialli benvenuti al post partita di bari modena bari modena 1 1 gol al settantatresimo di sibilia l'ottantatresimo di manconi nell'introdetto grande manconi perché ci voleva questo colpo di coda perché mi stavo sul cazzo a me perdere questa partita qua abbiamo avuto il carattere dovuto veramente carattere di poterla pareggiare questa partita nel primo tempo vedendo un po la dinamica dell'intera gara per 40 35 barra 40 minuti siamo stati padroni del campo su questo penso sia innegabile anche se la vera occasione più importante del primo tempo quella più pericolosa è avuta al bari al 42esimo 43esimo su calcio d'angolo e vedeva un po questi spettri del fatto che il modena gioca bene ma non concretizza ed è questo ancora un po la nota dolente di questa squadra che non sia ancora plasmata definitivamente ancora questi meccanismi di attacco che non sono efficaci non sono efficaci perché tentiamo di entrare in porta con il pallone nel primo tempo in particolar modo c'è stato probabilmente credo un tiro dalla distanza credo di palumbo nel primo tempo e invece nel secondo tempo abbiamo tirato un po più dalla distanza con palumbo con tremolada e poi tremolada ha fatto anche quel bel tiro dal limite dal limite insomma un po di davanti all'area dove il loro portiere aveva fatto un bel intervento però nel secondo tempo effettivamente e marino ha un po rimesso a riassestato un attimo il bare e hanno avuto molti uno contro un po di uno contro uno e col fatto che avevamo cota di cauza e zaro ammoniti non potevano andare sotto a sibilli in quell'occasione che ha fatto un bel tiro è un bel gol sibilli che l'ha messa proprio nell'angolo dove gagne non poteva arrivare però con i cambi insomma inserendo falcinelli inserendo manco ovviamente manconi inserendo anche bosanai che si è guadagnato il calcio di punizione che ha realizzato manconi siamo riusciti a pareggiare l'ottanta tresimo perché veramente ragazzi perderla non era giusto è giusto il pareggio siamo onesti è giusto il pareggio l'unica cosa che mi scazza che non riusciamo ad essere veramente offensi non offensivi pericolosi ecco la pericolosità è una cosa che su questo bisogna lavorare ci siamo partiti con abiuso e bonfanti come titolari non mi è dispiaciuta neanche la prova di abiuso peggio bonfanti secondo me tra i due abiuso è riuscito anche a recuperare i palloni in mezzo a tre giocatori del bari non mi è dispiaciuta prova di abuso poi nel cinquantacinquesimo cambia completamente a coppia d'attacco falcinelli e manconi falcinelli non l'ho visto un gran che bene non mi è piaciuto molto anche se il bari nel secondo tempo dopo diciamo i primi dieci quindici minuti in cui modena ha cercato di proseguire lo suo dominio territoriale nel primo tempo il bari poi è uscito fuori è uscito un po da lunga e un po con dio ma tanto non avevo dubbi che dio andasse avanti sbagliava perché lo ricordo e poi alla fine con sibiglie dai e dai sono riusciti a realizzare la rete del vantaggio e finalmente noi con l'ingresso di bosanai che si è guadagnato con bellissimo quella bellissima posizione siamo riusciti a realizzarla con manconi e veramente una gioia c'è avere avere la pareggiata così su calcio e posizioni sono contento per manconi che finalmente si è sbloccato e sono convinto che questa rete per manconi sia veramente una una rete che lo possa sbloccare definitivamente anche dal punto di vista realizzativo sono contentissimo per lui perché se la cercava questa rete la voleva a tutti i costi e finalmente riuscito a ad ottenerla con un bellissimo calcio di punizione dai mezzo brodino mezzo brodino abbiamo ottenuto un buon punto in una piazza in un campo difficile che veniva anche da una zona di un allenatore comunque marino è un buon allenatore per la categoria il bari comunque ha una rosa di tutto il rispetto sibilli ramo maiello bellom sono dei giocatori importanti anche un terzino destro d'orval credo che si chiami veramente forte a me piace molto questo terzino destro e lontano parente di uccada vabbè scherzi a parte comunque sì dai ragazzi abbiamo ottenuto questo pareggio importante non aver perso perché se perdevamo facciamo tre sconfitte consecutive erano era brutta la bella la roba perché poi dovevamo andare a brescia in mezzo alla settimana un po scazzati dalla sconfitta invece andiamo a brescia con un risultato che abbiamo recuperato e ci credevo è un po la vittoria alla fine ci credevo pochino pochino però ripeto dai può andare bene il pareggio e a brescia insomma andiamo andiamo in un campo difficile andiamo in un campo tosto per noi storicamente però insomma dai comunque abbiamo ottenuto questo pareggio ragazzi dobbiamo tirare un po più dalla distanza ed essere più pericolosi davanti si può evitare di entrare il pallone in porta con il pallone dai gialli ecco